lo aveva promesso in diretta tv mentre era in honduras provato dalle sofferenze della permanenza sull'isola dei famosi ma marco mazzoli è stato di parola e come aveva annunciato anche durante il reality di canale 5 le ha chiesto nuovamente di sposarlo per organizzare quel matrimonio che lei aveva sempre sognato ed ecco che in un video pubblicato su instagram lo speaker dello zoo di 105 ha raccontato e mostrato ai suoi fan il momento esatto in cui ha chiesto alla sua stefania di diventare nuovamente sua moglie lei ignara di quello che stava per accadere ha seguito il suo compagno passo dopo passo e quando lui si è inginocchiato per farle la fatidica domanda emozionata ha portato le mani al volto e ha detto amore sì finalmente nella didascalia al video è stato proprio mazzoli a sottolineare di aver impiegato più tempo del dovuto per realizzare questo sogno e infatti scrive l'ho promesso in circostanze decisamente insolite in diretta tv su canale 5 puzzavo come una pattumiera ed ero molto scosso dagli eventi ci ho messo un po a realizzare il tuo sogno in queste cose sono parecchio imbranato e goffo ma sappi che ti amo immensamente e mi scoppia il cuore quando ti vedo felice senza tagli senza filtri tutto estremamente semplice e improvvisato come la nostra vita le parole di marco mazzoli per stefania lo speaker ha sempre tessuto le lodi di sua moglie anche durante la sua permanenza all'isola dei famosi non è mai mancato un momento in cui ne parlasse con trasporto infatti aveva detto mia moglie è una donna fortissima è così forte che è riuscita a cambiarmi mi ha migliorato come essere umano lei odia il fatto che ci siamo sposati a miami con 130 dollari lei sogna il matrimonio prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie vi invito tutti lei è la mia metà perfetta l'esatto 50 per cento che mi manca lei mi completa